L'informazione di valore sul canale 18. Questa è Esperia TV. Le organizzazioni studenteste hanno richiesto la proroga dell'anno accademico per far fronte ai forti disagi causati da emergenze sanitarie a tante richieste inviate al Ministero. Ancora protesta ai lavoratori del Sant'Anna Hospital di Catanzaro. Questa mattina alcuni sono saliti sul tetto della struttura, altri hanno bloccato il viadotto Morandi. Il progetto Antica Croton, l'amministrazione comunale pedagogica ha rimodulato alcuni interventi, niente scavi dunque in centro città. Giovedì 21 gennaio 2021, ben trovati sul 18 per la nostra informazione. Sono profondamente colpito. Conosco l'assessore Talarico come persona dedita all'incarico affidato dalla Presidente Santelli. È un uomo mite, di grande responsabilità nei confronti dei calabresi. Mi auguro che possa, in tempi più brevi possibili, provare la sua totale estrenità alle accuse che gli vengono oggi contestate. Quanto ha detto il Presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirli, in merito all'inchiesta a basso profilo condotta dalla DDA di Catanzaro. Su questa operazione vediamo il servizio. Ci sono gli uomini delle cosche, i politici, gli imprenditori, i colletti bianchi, i servitori dello Stato infedeli, i voti in cambio degli appalti e tutta una serie di appetiti economici di quel vasto mondo di mezzo, in cui si incontrano gli interessi delle cosche e quelli degli insospettabili. Dall'indagine basso profilo emerge con grande chiarezza l'operatività di quell'andrangheta 2.0, di cui spesso parla il procuratore Nicola Gratteri, che insieme ai sostituti Paolo Sirleo e Veronica Calcagno ha coordinato l'attività di indagine condotta dalla DDA di Catanzaro, con il supporto di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Tra i nomi eccellenti, quello dell'assessore al bilancio della Regione Calabria, Franco Talarico, finito ai domiciliari, assieme a lui è indagato il segretario nazionale dell'Udc, Lorenzo Cessa. L'accusa è quella di associazione a delinquere aggravata dalle modalità mafiose. Secondo gli investigatori, i due politici si sarebbero impegnati ad appoggiare alcuni gruppi criminali del Crotonese e del Regino nel campo degli appalti a cui era interessato una delle figure chiave dell'inchiesta, l'imprenditore Antonio Gallo. Questa sua voglia di ingrandirsi lo porta ad arrivare fino a Reggio Calabria, a rivolgersi ai rappresentanti della famiglia di Indrangheta di Stefano Tegano per organizzare la campagna elettorale dell'onorevole Talarico nelle elezioni politiche del 2018. Lo porta a salire a Roma per cercare di ottenere degli appalti di natura nazionale e organizza un incontro, organizza attraverso Talarico un incontro con Cesa in un pranzo nell'estate del 2017. Tra le 50 persone raggiunte da misura cautelare c'è anche un noto professionista catanzarese, il notaio Rocco Guglielmo, raggiunto dal divieto di dimora nel capoluogo e dal divieto di esercitare la professione di notaio per la durata di un anno. A lui i clan si sarebbero rivolti per concretizzare il passaggio di quote societari a cittadini albanesi. Entriamo sempre più nei quadri della pubblica amministrazione e entriamo sempre più nei quadri della classe dirigente, della classe borghese, aristocratica, adotta e scopriamo pezzi di mondo marci. E questo è desolante, che non stiamo parlando di uno stato di necessità, stiamo parlando di ingordigia. Il cartello criminale poteva contare anche su Talpe nelle forze dell'ordine che fornivano informazioni sulle operazioni di polizia, una rete di connivenze in cui spicca il ruolo di un luogotenente della Guardia di Finanza, oggi in pensione, indagato dalle stesse fiamme gialle e raggiunto da una misura cautelare. Le indagini avrebbero ricostruito quasi 400.000 operazioni bancarie per un giro d'affari di 250 milioni di euro. Ho ricevuto un avviso di garanzia sui fatti risalenti al 2017, quanto dice Lorenzo Cesa, mi ritengo totalmente estraneo, chiederò attraverso i miei legali di essere ascoltato quanto prima dalla procura competente, come sempre ho piena e totale fiducia nell'operato della magistratura. Su questa operazione è stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio anche Natale Errigo, il dipendente di Invitalia è restato nell'ambito dell'indagine di oggi. Lorenzo è noto la società che Errigo negli ultimi mesi è stato tra i dipendenti di Invitalia che hanno supportato la struttura del commissario per l'emergenza Covid. Invitalia ha messo a disposizione le informazioni e le documentazioni richieste, sta approfondendo l'eventuale esistenza di altro materiale utile alle indagini. Ancora cronaca è stato estradato un narcotrafficante albanese, era in pratica uno degli avamposti della cosca d'Indrangheta di Rosarno. È stato estradato in Italia il narcotrafficante Ardian Cecchini, ritenuto avamposto della cosca d'Indrangheta dei Bellocco di Rosarno, nell'area balcanica, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria. Nel dicembre del 2019 è successivamente arrestato il 26 maggio 2020, in esecuzione del mandato di cattura internazionale per associazione mafiosa e traffico internazionale di droga. Cecchini, arrivato all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci, è stato preso in consegna dai finanzieri dello Scico di Roma e del Gico di Reggio Calabria. È indagato nell'ambito dell'operazione Magma, conclusa nel novembre del 2019, con l'esecuzione di 45 misure cautelari per associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico internazionale di stupefacenti, detenzione illegale di armi. Secondo quanto emerso dalle indagini, Cecchini, insieme ad altri, si è occupato di organizzare l'acquisto in Spagna di circa 20 chili di cocaina e ha fornito all'organizzazione apparati per comunicazioni telematiche criptate. L'estradizione giunge al termine di indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Reggio Calabria e dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma. Su questa vicenda hanno fornito un supporto determinante il reparto del Comando Generale del Corpo, la Direzione Centrale della Polizia Criminale, l'Interpol di Lione e la Polizia di Stato Albanese. Voltiamo pagina. Le organizzazioni studentesche in tutte le sedi istituzionali del Ministero dell'Università hanno richiesto la proroga dell'anno accademico per far fronte ai forti disagi causati dall'emergenza sanitaria. Noi studenti universitari, dimenticati dalla classe politica del Paese, stiamo continuando a vivere forti disagi a causa della pandemia, dice Enrico Gulluni, coordinatore nazionale dell'Unione degli Universitari. non solo disagi psicologici e economici, ma anche legati alle attività didattiche. Ed ora il bollettino Covid diffuso nel pomeriggio dalla Regione Calabria. Vediamo insieme quali sono i numeri di oggi. Diciamo subito che ci sono 9 decessi in più rispetto a ieri, purtroppo i casi totali ad oggi sono 30.091, 258 casi in più rispetto a ieri, ricoverati 297, rianimazione 26 persone, i guariti 19.571, i deceduti 552, lo ribadiamo 9 morti in più rispetto a ieri, in isolamento ad oggi 9.645 persone, tamponi eseguiti complessivamente da inizio pandemia 491.645, dicevamo 258 nuovi casi in più rispetto a ieri, di questi 38 Provincia Catanzaro, 70 Reggio, Cosenza 123, Crottone 10, Vivo Valencia 17, tamponi eseguiti 2.986. La politica alla scelta di Luigi De Magistris di candidarsi alla presidenza della Regione Calabria viene aspramente criticata sia da Stefano Graziano che il commissario calabrese del PD che dalla portavoce delle Sardine Cristallo. Vediamo. L'ennesimo annuncio di candidatura a qualcosa di Luigi De Magistris non è una buona notizia per la Calabria. Basta vedere come ha governato Napoli in questi dieci anni in cui la città ha avuto una regressione totale, abbandonata e piegata su se stessa. Lo afferma il commissario regionale del PD della Calabria, Stefano Graziano. Una candidatura improvvisa prosegue, calata dall'alto e che appare più come una fuga ingloriosa dalla Campania, un capitano che scende mentre la sua barca affonda, mentre si cerca di farlo passare come un atto di generosità politica e d'amore. Invoco un primato della responsabilità, perché ad essere candidato, prima ancora che un nome, deve essere un progetto, un orizzonte d'azione verso cui indirizzare ogni sforzo possibile, tutti insieme. Lo scrive Jasmine Cristallo, una dei portavoce nazionali del Movimento delle Sardine, in una riflessione su Facebook dedicata alle prossime elezioni regionali in Calabria. La Calabria, sostiene Cristallo, ha bisogno che a sinistra si recuperi un'identità ed una progettualità intorno a valori riconoscibili, leggibili da tutti, da tutti recepibili perché vissuti, e non di affermazioni politichesi per addetti ai lavori, che sempre più sono assimilabili a manutentori di palazzi anziché a costruttori di comunità. In questo quadro, credo che le autocandidature e le diverse fughe in avanti a cui stiamo assistendo non vadano in una direzione di reale e autentica attenzione alla Calabria. Piuttosto, intravedo affermazioni di un io e non certo di un noi, progetti singoli e non di comunità. Il racconto, finora, è sempre in prima persona e mai declinato dentro le fragilità e le risorse della mia terra, lontano dalla Calabria reale, che vive, combatte e si sacrifica ogni giorno. Forme di lidiarismo più o meno spinto, termina la portavoce delle Sardine, la fanno da padrona ed occupano lo spazio del dibattito pubblico che, invece, dovrebbe nutrirsi di una tensione collettiva. La personalizzazione non è mai foriera di buone pratiche e l'attualità politica nazionale ce lo testimonia di continuo. Nuova clamorosa doppia protesta dei dipendenti del Sant'Anna Hospital di Catanzaro del sindacato autonomo USB. Quest'oggi i lavoratori che attendono lo sblocco della situazione legata al mancato accreditamento della struttura in parte sono saliti sul tetto dell'edificio, in parte hanno occupato la sede stradale del ponte Morandi e si sono incatenate alle inferriate della struttura, provocando ovviamente disagi al traffico veicolare ingresso in città. Attendiamo risposte chiare, affermano i lavoratori e i sindacalisti dell'USB, dalla Regione Calabria, dal commissario ad acta per la sanità, il prefetto Guido Longo, e siamo pronti, dicono, a portare avanti la protesta fin quando non otterremo. Da Catanzaro a Crotone, questa mattina conferenza stampa dell'ingegnere Vincenzo Voce, sindaco della città di Pitagora, per presentare alla stampa e quindi alla cittadinanza alcune rimodulazioni attinenti all'ambizioso progetto antica Croton. Vediamo. Il sunto è questo. Perché il rischio, sa qual è, di polverizzare questi investimenti e questi lavori e queste opere e di iniziarli, di non portarli a conclusione e di ricoprire tutto quanto. Questo è il rischio. Meglio qualche intervento in meno, ma avere la certezza che siano portati alla fine. Il progetto ambizioso dell'antica Croton continua a tenere banco da anni nella politica crotonese. La nuova amministrazione, guidata dal civico Vincenzo Voce, incontrando la stampa, ha manifestato la volontà di apporre alcune modifiche, non contividendo quanto deciso dalla precedente amministrazione. Dunque niente scavi in piazza della Resistenza e neppure nel piazzale delle poste. Scavi sì, nell'area ex Cinema Aristo. È vero che abbiamo eliminato gli scavi nell'area settentrionale per problemi ambientali, ma anche per scelte tecniche. E poi l'altra modifica è l'eliminazione degli scavi in centro città. Ma quelli nell'area ex Aristo ne erano già previsti. Li abbiamo potenziati, perché un'area, chiamiamola in questo modo, libera, potrebbe essere fruibile, non darà sicuramente problemi alla viabilità e quindi la città di Croton può continuare a vivere anche in questi anni. E poi, maggiore interesse per l'area di Capocolonna, dove si interverrà lungo la strada litoranea. Diciamo il percorso, chiamiamola la strada, ma io non volevo chiamare la strada, perché se no uno dice, ma deve intervenire l'ANASO. No, lì era già previsto un investimento su quel percorso e l'amministrazione voce lo sta potenziando. Da Crotone a Catanzaro, a seguito di un caso di positività riguardante un educatore scolastico con il quale, secondo gli esiti del tracciamento dell'ASP, il personale docente e gli studenti non hanno avuto contatti, le attività didattiche in presenza della scuola di infanzia primaria e secondaria di primo grado e semiconvitto presso il convitto nazionale Galluppi sono state sospese nei giorni 22 e 23 gennaio, quindi domani e dopo domani. Lo ha disposto il sindaco Sergio Abramo. Un'ulteriore sospensione dal 22 al 30 gennaio, si aggiunge nell'ordinanza, riguarderà solo l'attività convittuale negli ambienti dove insegna l'educatore scolastico. Le organizzazioni sindacali del comparto Funzione Pubblica di CGL Cisle Will hanno incontrato il commissario Longo sulla questione che riguarda le indennità Covid. Hanno chiesto il rispetto dell'accordo sottoscritto con la Regione per il pagamento dell'indennità Covid agli operatori sanitari calabresi, sindacati della Funzione Pubblica, che hanno incontrato in cittadella il commissario alla Sanità Guido Longo. Prima di ogni cosa abbiamo chiesto che venga pagata l'indennità Covid agli operatori sanitari che hanno lavorato senza dispositivi di protezione individuale, senza una cabina di regia, senza una linea del comando, praticamente a mani nude, durante la prima, la seconda e la terza fase della pandemia. Il commissario ha preso conoscenza di questo accordo soltanto questa sera, adesso dovrà approfondire la situazione e immaginiamo che nel giro di poco tempo ci fornirà una risposta. Per medici e personale sanitario i sindacati chiedono una distribuzione equa delle risorse, 14 milioni destinati dal governo con i decreti curetali e rilancio, altri 2 milioni di risorse aggiuntive stanziate dalla Giunta regionale. Parte delle risorse di rilancio sono state già distribuite alle aziende in modo indistinto senza citare il protocollo d'intesa. Spero che il commissario abbia adesso la forza per finalmente bloccare queste risorse e dare soddisfazione ai lavoratori della sanità che si sono impegnati per combattere la pandemia all'interno delle aziende. È importante distribuire quelle risorse, distribuirle ai sensi dell'accordo che noi abbiamo sottoscritto perché è l'unico che garantisce equità nella distribuzione senza fare distinzione tra apicali o personale che non ha particolari incarichi, ma soltanto tenendo conto del rischio a cui i lavoratori sono andati incontro. Nel corso dell'incontro con il prefetto Longo ha affrontato anche il tema delle forti carenze di personale nelle aziende sanitarie ospedaliere. Lui come noi dice che mancano 5.000 unità. Da qui noi dobbiamo ripartire per ricostituire il tessuto del sistema sanitario regionale che ha bisogno di linfa nuova, di un ricambio generazionale perché l'età media è altissima. L'associazione La Calabria che vogliamo, preseduta da Giuseppe Nucera, ha consegnato un contributo economico al commerciante Danilo Tallarico di Crotone e la cui attività commerciale venne danneggiata dall'alluvione del novembre scorso. Insomma, un bel gesto di solidarietà. Esattamente due mesi fa, era il 21 novembre 2020, la pesante ondata di maltempo causò a Crotone danni ingenti alle infrastrutture ma anche a numerose attività produttive che vennero letteralmente invasa dalla furia delle acque. Il commercio venne messo in ginocchio, imprenditori e commercianti, nonostante tutto, si rimboccarono le maniche per poter ripartire, con la speranza che prima o poi arriverà qualche ristoro. Intanto però non è stato a guardare il mondo dell'associazionismo che ha attivato alcune raccolte di fondi. Siamo in via Mario Nicoletta, dove anche questo negozio venne invaso dalle acque e cerca ora di ripartire. L'associazione La Calabria Che Vogliamo ha destinato all'attività commerciale di Danilo Tallarico un contributo che lo stesso presidente Giuseppe Nucera ha consegnato. Io sono tornato qui da Danilo perché merita aiuto, merita attenzione. Sono stato quando c'è stata l'alluvione, l'indomani, ci siamo presi l'impegno come associazione che avremmo fatto una raccolta di fondi per quello che noi abbiamo potuto fare. Oggi sono stato qui a consegnare la copia del bonifico dei fondi che abbiamo raccolto. Io la sollecitazione che faccio è alle istituzioni, noi imprenditori anche nel nostro piccolo ci muoviamo però ci vuole l'aiuto di fronte a un'alluvione che ha creato tanti danni e bene che ci sia l'intervento delle autorità, dello Stato, della Regione perché questi imprenditori possono ripartire e dare lavoro e possono creare un futuro alle loro famiglie e alle loro aziende. Non nasconde l'emozione Danilo Tallarico che ha deciso di andare avanti nonostante le difficoltà e sperando che presto arriveranno altri aiuti. Non ho modo di ringraziare soprattutto questa associazione perché è stata una e l'unica forza che attualmente è stata quella che mi ha dato più vicinanza e più sollievo insieme alla protezione civile con il presidente Lucere Paola che sono stati loro che mi hanno spalato il fango e mi hanno tolto le macerie di dentro e poi al di là di tutto questo al giorno d'oggi a distanza di due mesi come si può vedere dalla mia struttura che è ancora vuota perché purtroppo per ripartire non è facile è la pandemia e che ancora non abbiamo avuto nessun ristoro da parte né delle autorità né dal governo né dal comune per noi imprenditori ce la stiamo impegnando per quanto riguarda la forza umana ma dalla forza economica avremmo avuto diciamo almeno la speranza di avere qualche ristoro cosa che ancora non è arrivato niente l'unico ristoro che è arrivato è questo qua un fiore, un gesto ma che per me vale tanto dalla Calabria che vogliamo da parte del signor Lucera che si è impegnato lui personalmente insieme ai suoi collaboratori e mi hanno offerto questo contributo ma del resto io non ho visto nessuno è tutto con questo servizio grazie per averci seguito ci rivediamo più tardi